Ciao amici, sapete chi è Marco Damilano? Marco Damilano è l'ex direttore dell'Espresso, sì, una testata di sinistra chiaramente. Un coraggioso compagno che quando è cambiata la linea editoriale dell'editore, i proprietari della Fiat, gli Elkan, con coraggio ha sbattuto la porta e se n'è andato. Peccato che si sia ritrovato senza lavoro. E indovina un po' chi gliel'ha trovato il posticino? Mamma Rai! Infatti per oltre 200.000 euro all'anno lo paghiamo tutti noi. E che cosa fa il Damilano in Rai? La campagna elettorale. Per il PD. Tanto che Agicom, l'Agenzia per le Comunicazioni, un ente indipendente, lo ha letteralmente condannato e gli ha ordinato di leggere in diretta la sua stessa condanna. Vedi Damilano, voi compagnucci siete abituati a fare così. Venite condannati, leggete il compitino. Succede che la Rai, il servizio pubblico, è stato pesantemente danneggiato dal tuo comportamento e che hai fatto campagna elettorale contro la Lega, contro la Lega, contro la Lega. Ora, chiederti le scuse è chiaramente inutile. Ma l'amministratore delegato, il compagno Fuortes, deve intervenire immediatamente. Lui si è preso con me la responsabilità di quello che tu avresti fatto, caro Damilano. E quindi, siccome siete stati condannati, a questo punto qualcuno ne deve pagare le conseguenze. Perché il cittadino o il lavoratore, se sbagliano, pagano. Per i compagni, invece, la cosa non vale. Se vuoi più libertà, anche sulla Rai, con la Lega cancelleremo il canone a una sola condizione. Devi darle forza, votandola il 25 settembre. Ciao.